Ok, no way, no way, no way No way! Oh my god! Non ci credo! Chi è questo? Chi è questo? Madre mia, madre mia! No way! Clip, clip, clip! Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore rosa amigo sul mio negozio? Bene, spero ti sia chiaro Come senti? Come sempre la grandisima ragazzi! Oggi andiamo a fare la reaction a dei momenti assurdi come sempre Ma oggi in particolare ci sono delle clip Ce n'è una che mi ha lasciato totalmente stupito Una giocata di intelligenza, di skill, di qualità Io vi chiedo di lasciare un like se avete mai fatto una giocata assurda E magari descrivere qua sotto nei commenti cosa avete fatto Ma soprattutto preparatevi a questa compilation Sarà una compilation bomba Quello che vi chiedo ragazzi è di passare nel mio canale nuovo Non ho ancora video ma voglio arrivare a 100.000 iscritti senza video Cioè è una sfida che voglio porvi Ce la faremo? Sì o no? Andate ad iscrivervi tutti quanti Qua sotto in descrizione E tutto questo mettetevi comodo e prendete la vostra Coca-Cola Popcorn E adesso sì, come sempre, let's go! Allora ragazzi iniziamo quindi questa compilation È un po' che non vedo cose strane Questo è finito dentro la montagna È finito dentro la montagna Ed è morto così Vediamo, oggi mi aspetto qualche bella cecchinata Qualche cosa distruttiva Qualche cosa pazzesca Chi è questo qui? Come si chiama? È spagnolo? Milan? È spagnolo? Attenzione! Con gli impulsi! L'onda energetica Che in realtà non è un'onda energetica ma sembra L'ha ucciso al volo Gigi, gigi, gigi Attenzione una Una gamer Una girl Gamer Vediamo cosa fa LOL LOL Doppio da quella distanza LOL Vediamo se squalo poi cosa combina Ma LOL È andato sott'acqua? E lui? Boh, lui è rimasto sopra Attenzione Abbiamo una ghoul qui È saltata via la macchina Quale è il tuo piano? Vediamo qual è il tuo piano Non si sa È partito Oh Oh Gli ha dato fuoco No Gli ha dato fuoco Che giocata Che giocata No 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 raga se ci riesce No 600.000 IQ questa giocata No way No way No way Ma cosa ha fatto? No way La giocata Più assurda Che avrei mai visto Ma 600 IQ E poi mi muore così Raga 600 IQ Non ci avrei mai pensato Che prefire che l'ha fatto Che prefire che l'ha fatto Chi era questo? No Madonna Che prefire che ha fatto Due volte Due su due Vediamo questi Dove salgono? Dove stanno andando? Vanno su Verso l'infinito e oltre Continuano a salire Continuano a salire A mille metri di distanza da terra Guardali lì Lassù Nel cielo Ma l'ha finita di salire? Ok l'ha finita L'ha finita Vediamo Rimane un po' incastrato Lo vuole uccidere Lo fa ballare Lo missa Incredibilmente Lo prende E poi muore L'ha missato però eh Cypher Vediamo qui Ok Non so cosa ci fa uno Nella montagna Lancia la benzina La colpisce Da rivedere un secondo Lancia la benzina Gli dà fuoco Geniale Geniale Attenzione No No Se lo becca No way E ha vinto la partita così No way No way No Way Attenzione Vabbè questo è Cioè Questo fratello Mi spia Ha fatto tutto lui da solo La macchina si ribalta Ma in realtà era un trick Per poi tornare in pista Era un trick Era fatto apposta A uno di vite Madonna Che cechinata Di nuovo Lo spagnolo Milan 9 2 6 Vabbè 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 Non è colpa sua È colpa di Fortnite Buggato Buggatissimo Vediamo questo 2 kill 22 No 2 persone 22 kill Oh Dietro di lui C'è un caramellito Dietro di lui Che non riesce a Non riesce a beccarlo Guardalo Non riesce a beccarlo Dai ma che Chi è questo scandalo Girati Voglio vederlo Voglio vedere che skin ha È uno skin No Wolverine addirittura Uh Gli ha fatto headshot Raga ma Non è neanche da pad Altrimenti l'avrebbe preso O no Vediamo Guardalo come lo prende in giro Oh mio dio Cosa sto vedendo Oh mio Oh my god Come evita Ma è Matrix Ma È Matrix Come evita i colpi Oh Non so Non so Se lui era bravo a evitare i colpi O l'altro era scarso a non colpirlo Secondo voi Ditemelo nei commenti Continuiamo Dorcan TV Eccolo lì Eccolo lì Un altro che fa esplodere tutto No così ragazzi Una signorita Uh La fa ballare La fa ballare Sembra brava Eda come si muove Raga È brava questa È brava GG Lol Gli ho appena fatto i complimenti Gli ho appena fatto i complimenti Vediamo L'ha chiuso dentro L'ha chiuso dentro Ma che Ma L'ha chiuso dentro Vediamo questo Attenzione Cosa Lancia Ok Vediamo Ok No way No way No way No way Oh my god Non ci credo Alexa Alexa Come stai Alexa No scherzavo Oh my god Ho detto Alexa Non Alexa Ho detto Alexa Capito C'è una differenza Siamo stai Barrage Hits Vediamo qua Stava cercando di farsi uno sceldino Lo Lo mi No Oh Ma non l'ha missato Eh Non Gli ha fatto Come si arrabbia Ma non l'ha missato Chi è questo Chi è questo Qualcuno mi sega Perché sono morti Attenzione C'è del lutto a terra Uno di vita Uno di vita Uno di vita Se si salva È un genio Se si salva È un dio Se si Oh Appicconate Gli ha rubato pure l'arma Prende l'arma da terra Non uccide un'altra Sono due Va forse per la terza Eccola lì Arriva forse anche la quarta Quadrupla per lui Madre che clicca ha fatto Tutti e quattro se le fate Ma L'ha fregato Ha cambiato posto all'ultimo secondo GG Questo è Reckens Questo è Reckens L'è entrato in macchina L'è entrato Vediamo Wow Che doppia Oh Che doppia E si prende l'arma per terra No Volevo vedere Ma è Ma ilen Chan Che è successo Quattro di No non ho visto Devo rivedere Devo rivedere qua Ah Stava camminando Tranquillamente Ed è saltata sul cofano Non sapevo il cofano Avesse delle molle I It's lit Si chiama It's lit Vediamo Vediamo È lì sotto qualcuno C'è la benzina È una trappola È una trappola È una trappola Lo fa entrare E lo uccide Mi piacciono Se giocate a 300 IQ Ma quanto in alto Ma quanto Come fa a essere così in alto Però Ci muori eh Ci muori Lo fa cadere Lo fa cadere o no Ecco Oh mio dio Si può salvare Si può salvare con Il lettino Lì elastico Ce l'hai Oh Si è salvato E l'ha vinta pure Attenzione Dei greff Io adoro Dei greff Lo fanno ballare Attenzione Però si prende Litte Quindi può Fightare E' tolto troppo poco L'ha lasciato Con 27 di vita Ce la farà 3 2 1 Al limite Qua cosa sta facendo La guerra Vai mettiti al posto Del Cosa fa No way Che giocata Che giocata Non so se Non so se avete capito C'è Ha avuto una giocata geniale E una sfiga assurda La combo Giocata geniale Più sfiga assurda Vediamo C'è praticamente E' sceso Ok Si è messo a volare L'ha fatto ballare L'ha colpito Non l'ha colpito Comunque Anche l'altro Aveva il jackpac L'ha usato E si è schiantato Contro di lui Ed è morto Pazzesco Credo sia l'ultima giocata Ultima giocata Uff Madre mia Madre mia No way Clippa 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 No way È finita così ragazzi No way Ragazzi io spero che vi siate divertiti Oggi ho visto Credo tra le giocate più allucinanti Che abbia mai visto E soprattutto di 300-600 IQ Noi ci vediamo domani Con un altro video Sempre qua sul canale Alle 13 e 15 Fate così bravi Ci via ragazzi Grazie a tutti